più di duecento ragazze abbiamo avuto modo quindi di aumentare le scritte quindi fare un'operazione di scouting sono molto contento delle ragazze che stanno state scelte di tutte le partecipazioni musica con calma anche perchè non ho la fascia e non ho la corona e i fiori fai il cavaliere Mario e allora vi dico che Miss Umbria 2018 è la concorrente numero 24 Gaia Gattavecchi complimenti bellissima bellissima veramente veramente complimenti anche a te in Venezia di cuore veramente complimenti Gaia Gattavecchi fa il compaccio e vince il titolone Miss Umbria 2018 e lei devo dire che sicuramente è una degna rappresentante di questa splendida regione che è l'Umbria e sono certa che la vedrete alla finale televisiva 17 settembre in onda sulla 7 prendi tutti i premi prendi anche il premio di Miluna ovviamente donato da Carlo Giammarini ecco qua Carlo venga anche lei è ormai una colonna portante di Miss Italia e allora fermi perché c'è la premiazione perché il titolo di Gaia